Qui a Palazzo San Giacomo si è tenuta la conferenza stampa per la nuova linea di volo Napoli-Granada, un'opportunità per il turismo non solo partenopeo ma anche un gemellaggio fra la città di Granada e Napoli. Ho a fianco a me Mr. Haen e volevo chiederle che cosa ne pensa di questa nuova iniziativa che fa un gemellaggio fra due città molto importanti che è Napoli e Granada. Noi da parte delle province di Haen e Granada abbiamo molte aspettative per questo nuovo collegamento aereo non solo per incrementare il turismo ma anche per rafforzare le nostre relazioni commerciali o anche i rapporti personali che abbiamo perché questi territori sono effettivamente molto vicini. Il momento del turismo è oggi un momento in cui ci sono nuovi valori come la sostenibilità, la cultura, i monumenti. Anche il turismo urbano sta diventando molto importante per cui per noi è importante cogliere questa opportunità e sfruttarla e spero che ci siano successivamente altri incontri ed eventi per rinforzare questi legami. È una nuova rotta che è stata istituita da questo vettore che è presente a Napoli da qualche anno e ha aperto rotte con numerose altre città europee da EasyJet, quindi noi cogliendo questa opportunità che ha fatto di Napoli un centro di incroci molto importanti e diretti, ecco cogliendo l'opportunità di questo volo diretto con Granada che è un posto meraviglioso, una terra fantastica, vogliamo appunto intensificare e promuovere questa rotta per permettere ovviamente e far sapere ai cittadini napoletani e ai tanti turisti che passano da Napoli che c'è questa nuova opportunità, così come cercheremo come amministrazione di cogliere appunto l'opportunità che i cittadini spagnoli e soprattutto i tantissimi turisti che visitano queste terre bellissime, queste città meravigliose possano poi decidere appunto cogliendo l'opportunità di un collegamento diretto di giungere a Napoli e proseguire il loro viaggio, quindi vogliamo intensificare gli scambi, c'è un legame fortissimo, una grande tradizione storica, culturale comune, questa è la bellezza del turismo, il turismo è viaggio, è conoscenza, è desiderio dell'altrove, è che le città facciano rete in un momento in cui si vogliono alzare muri, tensioni, si sentono clamori di guerra, ecco il turismo è questo, conoscenza e pace. Per quanto riguarda questa nuova linea Napoli-Granata-Haen, sono tre città che partono dall'aeroporto internazionale di Napoli in Capodichino e poi proseguono verso l'aeroporto Federico Garcia Lorca di Granata-Haen con dei voli internazionali. Io ho a fianco a me il dottor Rubio Navarro che è consigliere turistico e amministratore generale della Spagna, io volevo chiederle, dottore, che cosa ne pensa di questa iniziativa turistica che gemellerà queste tre città, quindi porterà persone dalla Spagna qui in Italia e ovviamente dalla città di Granata a Napoli. Come vede questo gemellaggio, questa nuova iniziativa che comunque darà un risvolto positivo a livello turistico? Per noi è molto importante questa nuova connessione aerea tra Granata e Napoli, molto importante perché il mercato italiano è andato sempre crescendo negli ultimi anni, pensate che nel 2017 ci sono stati quasi 4 milioni di visitatori, di cui solo 500 mila in andato sia. Quindi per noi è molto importante questa connessione anche nell'ambito della nostra nuova strategia turistica che mira ad un turismo più culturale, anche gastronomico e che mira all'unione delle culture. Miriamo ad un turismo di maggiore qualità. Sempre tanti ospiti per questa iniziativa caratura internazionale che appunto ha il compito di gemellare tre città che sono Napoli, Granata e la città di Haen. È praticamente un'iniziativa splendida, bellissima, che porterà non solo turisti qui in Italia, ma credo che aumenterà anche il turismo che già esiste fra Italia e Spagna, un'amicizia che oramai dura da tanti tanti anni. E per parlare di questo, a fianco a me l'assessore al turismo della città di Granata, il dottor José Enrique Medina Ramirez. Dottore, che cosa ne pensa per quanto riguarda il turismo? Vede un aumento potenziale per il turismo? O quale altra miglioria vede da questo gemellaggio che comunque è favorevole per queste tre città che partono da due aeroporti internazionali famosissimi? Quello che vogliamo fare, avvicinando queste nostre città, è incrementare sicuramente il turismo. Pensate che i turisti italiani a Granata rappresentano il quarto mercato, con circa 90.000 pernottamenti all'anno. Ma non solo questo, vogliamo anche incrementare i rapporti economici tra quelli che io chiamo i due sud, cioè il sud d'Italia e il sud della Spagna. E a parte questo, a parte rafforzare le relazioni turistiche, anche quindi quelle economiche, che per questo, questo passo avanti, questo nuovo collegamento aereo, è molto importante da questi punti di vista. Grazie. E sempre qui a Palazzo San Giacomo, qui in sede del Comune di Napoli, abbiamo parlato tantissimo di questa nuova iniziativa, di questo gemellaggio di queste tre città che sono Napoli, Granata, Haen. E ovviamente c'è stato anche l'anello di congiunzione che ha messo in contatto queste realtà turistiche del sud della Spagna e del sud dell'Italia. Una realtà che comunque aumenterà sicuramente i turisti da ambo i lati, ma poi creerà anche un progetto, crediamo, culturale per quanto riguarda i giovani e quant'altro. Quindi un qualcosa anche di culturale per quanto riguarda i giovani. E ho a fianco a me la dottoressa Elvira Zingone, responsabile del proietto Espagna, spero di averlo detto correttamente. E praticamente è un tour operator che si occupa di giovani per quanto riguarda i viaggi culturali. Vero dottoressa? Esattamente. Noi siamo una realtà italo-spagnola, presenti qua sul territorio a Napoli, ma con uffici nostri anche in Spagna. Siamo una realtà napoletana, ci tengo molto a dirlo perché io sono la responsabile, sono napoletana. Dopo tanti anni di residenza lì in Spagna, sono tornata con l'esperienza appunto del turismo lì in Spagna e ho trasferito la nostra attività qui a Napoli. Lavoriamo in tutta Italia e siamo proprio un tour operator specializzato in quello che è la diffusione della lingua spagnola qui in Italia e l'appoggio dal punto di vista non solo didattico ma turistico. Siamo un tour operator a tutto tondo, ma curiamo molto anche la parte culturale, la preparazione. Tant'è vero che la mia equipe, oltre ad essere formata da agenti di viaggio, perché è un tour operator al 100%, siamo prima di tutto tutti quanti esperti in lingua e cultura spagnola. Io stessa sono filologa come anche i miei collaboratori. È una realtà un po' diversa rispetto alle altre realtà perché non ci occupiamo del turismo classico che è sicuramente un turismo fondamentale, anzi un turismo che deve essere assolutamente appoggiato, deve essere alimentato. Facciamo un turismo diverso, tant'è vero che stiamo cercando anche di lanciare Napoli, non solo, normalmente facciamo outgoing verso la Spagna, quindi portiamo studenti italiani, non solo da Napoli ma da tutta Italia, verso la Spagna. Siccome Napoli è la nostra città, io sono orgogliosa di essere di questa città ed è quella che è stata appunto la capitale per tanto tempo appunto dello Sborbones, della famiglia, diciamo di quello che è stata la dominazione Borbone per più di 200 anni, la nostra cultura è legata moltissimo a quello che è la cultura spagnola per cui stiamo creando nuovi programmi sempre turistici per non solo attrarre gli spagnoli verso Napoli ma anche turisti di tutta Italia, cioè ragazzi che studiano lo spagnolo in tutta Italia qui a Napoli per fare dei programmi in lingua spagnola, tutto al 100% in lingua spagnola in collaborazione chiaramente con quello che è l'Istituto Cervantesco a Napoli con cui lavoriamo moltissimo e con appunto il nostro staff di esperti.